Come anticipato dal nostro giornale, il sindaco di Polignano non si scalfisce più di tanto dopo il no degli albergatori alla tassa di soggiorno. Deciso a tenere fede alla sua promessa di coinvolgere i cittadini nelle scelte, Domenico Vitto manda in soffitta la sua idea di imposta per finanziare le opere necessarie nel turismo. Io volevo accelerare il processo dei servizi turistici a Polignano, ma se questo non sarà possibile vuol dire che lo faremo con le somme che il bilancio nei prossimi anni ci metterà a disposizione. Solo che io mi accorgo che il turismo in questo momento va sostenuto in questo paese perché è questo il momento favorevole del nostro paese. Se tutti capiamo che i servizi bisogna crearli quando i turisti ci sono e non forse quando andranno via, io sono disponibile a vederlo con gli operatori del settore del turismo a verificare se c'è la possibilità di mettere questa tassa di soggiorno. Se loro riterranno o non riterranno opportuno metterla, io non imporrò niente a nessuno perché in campagna elettorale ho parlato di condivisione e così voglio continuare ad operare in questo paese. I abbregatori ragionano al contrario, dicono prima ci vogliono i servizi poi magari possiamo mettere questa tassa. Ma questa è una bella domanda perché mi fa dire quello che penso. Noi non è che ci sottrarremo a creare i servizi come abbiamo detto in campagna elettorale, ma io volevo accelerare nel processo di creare i servizi. Con le risorse che abbiamo forse per creare tutti i servizi intorno al turismo ci vorranno cinque anni. Forse con una collaborazione dei turisti ne avremmo perso due o tre anni a creare i servizi seri, i servizi principali che ci vogliono per il turismo. Questa era la mia idea, ma con questo io non voglio fare forzature perché capisco il momento, però un impegno prendo con i miei cittadini. Non certo sarà l'aumento delle tasse ai cittadini a creare i servizi per i turisti.